buongiorno a tutti e ben trovati con questa pillola parleremo di arte terapia volevo prima dirvi che stiamo continuando a ricevere le fotografie dei vostri collagini al fine di realizzare quella grande immagine collettiva di tutti i vostri lavori da poter esporre poi a casa avanti dobbiamo dire che abbiamo visto che il vostro impegno c'è la voglia di fare la voglia di andare avanti e questo ci conforta no 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 l'attività che vi propongo oggi è ovviamente molto semplice ma simulante si tratta di rilassare riordinare delle cose secondo la propria specie o il proprio colore basterà mettere su un tavolino un insieme di oggetti e collocare vicino ad essi dei contenitori il compito è quello di riordinare per specie per colore questi oggetti all'interno di alcune ciotole scatoline contenitori diversi è ovviamente un'attività molto semplice tranquilla che non stressa per farlo ma che dà soddisfazione e spero che anche questa funzioni e che possa esservi di aiuto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ciao arrivederci ciao 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 ciao